Il sindaco Marinelli, buone notizie possiamo dire sul tratto di strada SP20 che collega Pianella a Loreto. In questi giorni si vanno concretizzando alcuni percorsi che noi auspicavamo oramai da tempo. Credo che la forte pressione che è venuta dalle realtà delle amministrazioni locali e dai cittadini, dalle imprese, abbia fatto capire ai livelli superiori della politica che non era più derogabile questo intervento. Abbiamo due finanziamenti concorrenti, uno da parte del Governo nazionale che destina oltre un milione e mezzo di euro alla provincia di Pescara appunto per la sistemazione delle emergenze stradali. All'ulteriore notizia che anche la Regione finalmente ha sbloccato l'auspicato intervento per 500 mila euro destinata alla strada di bonifica di Alanno ma soprattutto alla strada provinciale 20 che oramai era diventata davvero il simbolo della impossibilità per questa collettività di rialzarsi in un momento difficile. Siamo contenti di questo, speriamo a giorni di poter insieme alla provincia dare finalmente il via ai lavori per la riapertura parziale di una corsia ma subito dopo saremo assolutamente decisi e presenti per fare tutto quello che serve per avere subito una progettazione esecutiva e l'imminente avvio dei lavori perché quella strada è davvero vitale per l'economia di tutta l'area vestina.